La provincia di Salerno si blinda in vista della weekend di Pasqua. L'ordine è di intensificare i controlli soprattutto lungo le arterie che conducono nelle località rivierasche della costiera amalfitana e quella cilentana. Il timore è che i proprietari delle seconde case decidano di trasgredire l'ordine di rimanere a casa per trascorrere le vacanze pasquali al mare. I sindaci di Centole e Camerota ad esempio sono tra quelli che hanno ricevuto telefonate di persone che chiedevano il permesso per così dire di entrare nelle loro case estive. Telefonate analoghe sono giunte anche ad altri sindaci di comuni cilentani. Tutta questa voglia di raggiungere la costa ha messo in allerta le autorità locali che immediatamente si sono attivate per potenziare ulteriormente i controlli lungo le vie. Una vera e propria barriera di forze armate è stata già costituita sulla cilentana e allo svincolo di sicignano degli alburni sulla A2 del Mediterraneo. Ma ci sono sindaci che si preparano a firmare altre ordinanze per bloccare i furbetti della Pasqua. A Centola potrebbe entrare in vigore il divieto di accesso sulla spiaggia. Da venerdì ad Agropoli tutte le strade principali saranno chiuse e presidiate 24 ore su 24 fino a martedì. A Monte Corice che comprende anche la frazione di Agnone Cilento il sindaco Pierpaolo Piccirilli ha bloccato le strade con a New Jersey. Chiuse le strade Giungatelle e Perdifumo e la strada provinciale 94 nel tratto che collega Monte Corice con Perdifumo. Insomma la costa cilentana si blinda e chi sarà sorpreso a trasgredire l'ordine di rimanere a casa sarà denunciato e multato.